Si parla di aria tesa all'interno della giunta guidata da Carlo Mascia Pescara per via della situazione di Fratelli d'Italia, questa cherella a distanza tra Fabrizio Rapposelli e l'assessore al commercio cremonese. Ecco, cosa c'è di vero soprattutto di tutto quello che è stato pubblicato sugli organi di informazione? Allora, sul discorso dell'aria tesa all'interno della giunta onestamente non posso dire nulla perché io non sono un elemento della giunta, non sono un assessore della giunta Mascia, sono il capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Pescara, nonché il presidente di una commissione attività produttive e politiche della scuola, tra l'altro una commissione estremamente produttiva, una commissione estremamente propositiva e sempre di supporto agli assessori cui diciamo le mie deleghe della commissione fanno riferimento. In particolare Gianni Santilli e quando c'è la possibilità anche Alfredo Cremonese. Certo che a Fratelli d'Italia non è che si discute o si litiga così per gioco, si discute come in ogni buona famiglia, si discute, ci sono pareri discordanti su determinate questioni ma soprattutto l'importante che, la cosa molto importante che io ritengo potrebbe essere sottolineata e che sto sottolineando in questi giorni e che ci vuole il dialogo. Cioè nelle buone famiglie si deve parlare ma si deve parlare prima di prendere le decisioni. Ora nel caso specifico nostro, siccome abbiamo assistito in un recente passato e forse anche prima in decisioni prese dall'assessore senza alcun coinvolgimento del sottoscritto o del gruppo a cui io sono il capo gruppo, quindi diciamo il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Comune, è ovvio che questa situazione non è che può permanere. Io l'ho denunciata, l'ho sottolineata, ora usiamo diciamo il termine più appropriato che vogliamo, però è ovvio che siccome il dialogo è la cosa principale per poter arrivare a delle decisioni condivise per un percorso, sempre nelle decisioni importanti per la città, ho solamente sottolineato questa cosa. C'è chi se l'è presa ma io sinceramente essendo stato eletto e avendo ricevuto un mandato popolare con un discreto anche numero di preferenze, io ho il dovere morale e l'obbligo di sottolineare alcune cose, alcune storture che secondo me ritengo essersi verificate. Oggetto del contendere, Rapposelli, la situazione del mercato coperto e come viene gestito? Ma diciamo che io ho posto l'attenzione su alcuni mercati e su alcuni stalli, ma io non sono il censore del comune di Pescara né tantomeno il bacchettone o colui il quale vuole censurare il comportamento altruio, solamente rilevato che in determinate situazioni forse c'è uno stallo che perdura da un po' di tempo. Noi abbiamo un mercato, il mercato di via Bastioni, che è il mercato più antico della città, che permane ancora con dei lavori che sono da 15 mesi che sono ancora fermi, allora mi sarei aspettato che dopo 15 mesi diciamo ci fosse stata una svolta con l'amministrazione nostra, e in questo caso con l'assessore che magari avesse dato un pochettino più di impulso alla risoluzione di questa problematica. Ci sono anche altre situazioni un po' così particolari tipo il mercato di San Giuseppe che devo dare un grande merito soprattutto anche agli uffici nostri comunali, al dirigente e anche al direttore del servizio che stanno sinceramente affrontando una questione che perdura da tanto tempo e da tanti anni e loro gli stanno giustamente cercando di trovare una soluzione. Quello che ritengo poteva essere meglio regolamentato è il numero dei giorni di apertura di questo mercato perché se la motivazione è quella di un quartiere particolarmente bisognoso e difficile io devo dire che ci sono anche altri mercati in quartieri della città molto particolari e molto bisognosi e allora dobbiamo diciamo dare un segnale di eguaglianza un pochettino per tutti. Ecco in riferimento a queste due fattispecie io ovviamente mi sono permesso ma non potevo fare altrimenti che sollevare delle questioni. Poi se l'assessore si è presa o se qualcuno diciamo è voluto scendere in campo a difesa dell'assessore mi dispiace perché avrebbe dovuto anche evidentemente sentire e contattare il sottoscritto e soprattutto tenere anche in debito considerazione il ruolo che tutti i consiglieri hanno perché giustamente siamo stati eletti dal popolo e quindi è giusto che anche noi facciamo sentire le nostre idee e le nostre proposte. A proposito di assessori lei è per il turn over in consiglio comunale per quanto concerne la delega alla cultura o va bene così? Ma io mi rifaccio spesso e volentieri ai nostri antenati ai latini e i latini al riguardo avrebbero detto pacta servanda sunt. I patti vanno rispettati? Sì la traduzione letterale è proprio questa. E quindi? E quindi credo che insomma... Per chi non conoscesse i patti? Ma c'era da tempo che era previsto un turn over se ne era già parlato in diverse occasioni ma stiamo parlando veramente di mesi 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 e mesi fa io credo che insomma una riflessione sotto questo punto di vista si possa fare insomma oggi. Poi se qualcuno ritiene che non sia ancora il tempo pazienza insomma io rimango di questa idea però voglio dire non è che io non impongo niente a nessuno quindi se il partito ritiene di riflettere ancora maggiormente su questa cosa che ben venga una maggiore riflessione se invece ritengo di decidere diversamente io mi attengo ovviamente a quelle che sono le decisioni del partito e non passiamo sul maggiore e bello schimando uno Da qui! Ja, sì! No, la scuola... No,. No, non WheatrGood. Ma ne, no, a Si no, 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 no... No, no... No, no, no. Grazie a tutti.